Il ragazzo dell'Immacolata, San Domenico Savio di Rito Cascioli L'8 dicembre 1854 fu un giorno memorabile per tutta la cristianità, il giorno della definizione dogmatica della concezione immacolata di Maria Santissima. Al momento di tale solenne proclamazione i finestroni della cupola michelangiolesca furono attraversati da un inaspettato raggio di sole che squarciando le cupi nubi di quella giornata piovosa andavano a posarsi sulla persona del Papa proprio nel momento in cui regalava ai figli della Chiesa un nuovo e gloriosissimo dogma mariano. I benefici risvolti di tale felice pronunciamento sono molti e non si possono qui elencare. Certamente questo novello raggio di luce illuminò davvero le menti di molti uomini offuscate dalle tenebre del naturalismo e del razionalismo offrendo loro la tavola di salvezza per salvarsi dagli errori filosofici, etici e politici del tempo. Allora come oggi riconoscere il privilegio dell'immacolata concezione significava colpire alla radice ogni tipo di peccato e risvegliare nell'uomo la coscienza della sua infermità che può essere curata solo da Gesù Cristo attraverso Maria. Tra i tanti che aspettavano con impaziente gioia quel momento vi era anche l'anima candida di un ragazzo tredicenne che avrebbe fatto della lotta al peccato il motto e l'impegno della sua vita. Più e meglio di grandi teologi i suoi occhi puri avevano intravisto nella tutta bella un ideale da raggiungere e conquistare. Il ragazzo è il giovane Domenico Savio che nell'attesa di quel giorno memorabile si era preparato con una confessione generale rinnovando il proposito di santità formulato nel giorno della sua prima comunione. Al sopraggiungere della grande solennità la Vergine Immacolata trovò l'anima del ragazzo così ben disposta che poté deporvi tutti i tesori di grazia di cui era portatrice riempiendolo di grande consolazione come ricorda il parroco. Non posso dimenticare la letizia che Domenico dimostrava e come tripudiasse di santo affetto per quella solennissima festa quando in tutta Torino e nell'oratorio si fece grande illuminazione. Domenico poi la sera di quel grandissimo giorno dimostrando di aver ben compreso il contenuto di grazia della festa trascorsa così pregò Maria vi dono il mio cuore fate che io sia sempre vostro Gesù e Maria siate sempre gli amici miei ma per pietà fatemi morire piuttosto che mi accada la disgrazia di commettere anche un solo peccato. Un piccolo orante. Il giovane santo patrono della gioventù nacque 12 anni prima arriva nel Monferrato il 2 aprile a quel tempo festa della maternità divina. Lo stesso giorno divenne figlio di dio nella chiesetta del paese dedicata all'assunta. La famiglia molto cattolica non trascurava la confessione e la comunione frequente la recita delle preghiere al mattino e prima dei pasti e il santo rosario alla sera. Domenico a soli 4 anni già conosceva tutte le preghiere più comuni e le recitava col fervore di un angelo dimostrando assieme a una precoce intelligenza il favore di una soda pietà. I suoi lo ricordavano appartarsi in qualche angolo della casa ai primi rintocchi dell'Angelus per recitare alla Vergine la bella preghiera. Tale devozione così sentita e sincera gli meritò la grazia della prima comunione anticipata di ben 5 anni. Dal giorno in cui ricevette per la prima volta il suo signore si può dire che fu tutto suo e non se ne separò mai. Fu in quel giorno a prendere la risoluzione che lo avrebbe reso famoso ed esemplare nella lotta contro il male e che tanto lo avvicina alla Vergine Immacolata. La morte ma non i peccati. Nell'oratorio di Don Bosco Nel 1854 fattosi ormai grandicello entrò nell'oratorio di San Giovanni Bosco a Torino distinguendosi subito per dirigenza, bontà e innocenza. Anche a mamma Margherita, la santa mamma di Don Bosco, non sfuggì le lezioni di quell'anima e così ne parlavo al figlio. Tu hai tanti giovani ma nessuno supera la bellezza del cuore e dell'anima di Domenico Savio. Lo vedo sempre pregare, restando in chiesa dopo gli altri, finite le funzioni comuni e sovente con un gruppo di compagni raccolto intorno all'altare della Beata Vergine a recitare il rosario. Difatti era suo impegno particolare di Apostolo Mariano, indicare agli amici, soprattutto ai compagni orfani di madre, l'altra madre, tanto più buona, bella e grande, fonte della sua perenne allegria. Le sue parole e il suo esempio non cadevano senza portare frutti di consolazione nelle anime dei compagni che avevano imparato a stimarlo, ad amarlo e a imitarlo. Don Bosco da parte sua ben conosceva la virtù del ragazzo e della sua devozione mariana così racconta. Aveva uno speciale culto all'immacolato cuore di Maria, tutte le volte che si recava in chiesa andava avanti all'altare di lei per pregarla a ottenergli la grazia di conservare il suo cuore sempre lontano da ogni affetto impuro. Una compagnia per l'immacolata. Grande amante del privilegio mariano fu forse il primo a organizzare una milizia dell'immacolata raccogliendo attorno a sé, o meglio attorno a lei, alcuni dei compagni più fervorosi. Il gruppo si chiamava compagnia dell'immacolata e il regolamento venne approvato dallo stesso Don Bosco. Ne riportiamo alcuni stralci dal carattere più esortativo. Una sincera, figliale, illimitata fiducia in Maria, una tenerezza figliale verso di lei, una devozione costante, ci renderanno superiori ad ogni ostacolo, tenaci nelle risoluzioni, rigidi verso di noi, amorevoli con il nostro prossimo ed esatti in tutto. Maria benedica i nostri sforzi, giacché l'ispirazione di dar vita a questa pia società fu tutta sua. Ella rida le nostre speranze, esaudisca i nostri voti e noi, coperti del suo manto, forti del suo patrocinio, sfideremo le procelle di questo mare infernale. In tal guisa da lei, confortati, speriamo di essere l'edificazione dei compagni, la consolazione dei superiori, diletti figliuoli di lei. Questi giovanissimi apostoli diffusero con ardore la devozione alla Madonna, soprattutto tra i ragazzi dell'oratorio, raccontando episodi edificanti sulla devozione alla Vergine, costruendo in suo onore altarini, intensificando ogni impegno, soprattutto nel mese di maggio, ma più di tutto parlava il loro buon esempio. Una volta un compagno vide Domenico Savio abbassare gli occhi per non guardare certe cose e gli disse quasi in tono di rimprovero, che vuoi dunque fare degli occhi se non te ne servi a rimirare queste cose? Voglio servirmene per mirare la faccia della nostra celeste madre Maria quando, con l'aiuto di Dio, se sarò degno, andrò a trovarla in paradiso, rispose dando un esempio sublime di angelica purezza. La Madonna prediligeva e proteggeva questo suo figlio così speciale. Una volta tornato inaspettatamente al suo paese, la mamma gli chiese se avesse fatto da solo lungo viaggio e gli rispose di no. Appena sceso dalla vettura ha trovato subito una bella e maestosa signora, la quale ebbe la bontà di accompagnarmi. La mamma allora uscì fuori dalla porta e guardò inutilmente intorno. Perché non le fate entrare? chiese la mamma. Perché appena fui vicino al paese, ella scomparve, rispose candidamente Domenico. Era certamente la Madonna. Verso una dolce morte. Nel 1857 la salute del ragazzo iniziò a vacillare. Venne mandato a casa per riprendersi ma il male peggiorò e le cure non valsero nulla. In breve Domenico si trovò in fin di vita. Quello che per molti è il momento terribile era per lui il momento sospirato. ricevette il viatico. Ripetendo brevi giaculatori si assopì. Poi d'un tratto esclamò. Addio caro papà, addio. Oh che bella cosa io vedo mai. Sul suo volto brillava una luce di grazia e una pace sovrana che solo la visione del cielo può dare quando sta per schiudersi ad accogliere un suo eletto. Chi venne a prenderlo per portarlo alla patria beata? Come non pensare che fu ancora la bella signora? La stessa che lo aveva accompagnato alla casa paterna? Era il 9 marzo 1857 ed egli aveva solo 15 anni. Molti anni dopo, una sera del novembre 1876, tutto splendente, il giovane santo comparve al suo amato Don Bosco che subito approfittò per chiedergli cosa più lo avesse consolato in punto di morte. L'aver custodito intatta la purezza? La coscienza tranquilla ad ogni peccato? Questo pensiero mi giovò, rispose, ma la cosa più consolante per me, nell'ora della morte, fu il pensare che ero devoto della Madonna. Lo dica ai suoi giovani e raccomandi con insistenza la devozione alla Madonna. In queste parole c'è l'anima e l'eredità di San Domenico Savio ed egli è venuto in persona dal cielo per consegnarcela.